La stagione del Real Madrid, iniziata ad agosto nel modo a cui la squadra di Zinedine Zidane ha abituato negli ultimi tempi, cioè vincendo sempre, si sta rivelando più complicata del previsto. Specialmente in campionato. Nelle cinque partite disputate fin qui, gli scarsi risultati ottenuti dal Real al Santiago Bernabeu, dove deve ancora vincerne una, hanno portato la squadra al settimo posto e a sette punti di distanza dal Barcellona primo in classifica. Un distacco che complica parecchio la situazione in campionato, perché quei sette punti devono essere recuperati al Barcellona, sempre vittorioso fin qui, e con un Messi ancora più in forma del solito. Mercoledì sera il Real Madrid ha subito in casa la prima sconfitta stagionale contro il Betis Siviglia. Ha perso per via di un gol segnato dall'ex giocatore della Roma Tony Sanabria all'ultimo minuto di recupero, che ha chiuso la partita senza dare al Real il tempo di reagire. Ma il Real è stato in balia degli avversari troppo spesso durante la partita, e fin dai primi minuti di gioco il Betis ha avuto diverse occasioni per segnare. Ci sono stati parecchi errori individuali nel corso dell'incontro, peraltro da giocatori che negli ultimi mesi sono stati impeccabili nelle vittorie del Real con prestazioni costanti e di alto livello, come Dani Carvajal e Casemiro.